Su questa limousine di Encon Town Car, in collaborazione con Airways Limousine, abbiamo eseguito diverse elaborazioni, tra cui, come potete vedere, i neopier di sottoscocca, abbastanza evidenti, e l'installazione di diversi monitor. Allora, un'anteriore, un Clarion che ci permette di riportare l'immagine DVD video ed USB video ai due monitor posteriori, dove sentirete che abbiamo migliorato anche la parte audio di questa vettura. Vi faremo ora vedere all'interno i due monitor. Come potete notare, all'interno di questa limousine non manca nessun tipo di optional, di vivo e di comfort. Allora, un'anteriore, 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 un'anteriore. Come potete notare, 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 un'anteriore. Di conseguenza sapete che se vi interessa un sistema di intrattenimento come questo dovrete contattare la SAIL di Brescia e se vorrete invece vivere l'esperienza di nolezare un'auto simile dovrete contattare ilislimusine.it Un saluto a tutti da Andrea della SAIL di Brescia